Ciao ragazzi, buona domenica! Oggi voglio proprio utilizzare questa piccola rubrica per parlarvi di un argomento molto ricorrente sui commenti e nelle vostre richieste. Molti di voi ci chiedono quali sono gli esercizi più efficaci per migliorare una zona specifica del corpo, ad esempio gli esercizi migliori per ridurre il girovita, gli esercizi migliori per le culotte de cheval o gli esercizi migliori per dimagrire le cosce. Ognuno di noi ha delle zone dove tende ad accumulare di più il grasso corporeo e l'errore che non dovete mai commettere è concentrare l'allenamento solo su quelle zone. Il consumo di grasso nel nostro corpo è globale, quindi se concentrate gli allenamenti solo su una zona del corpo, esempio, voglio dimagrire le cosce, faccio solo allenamenti mirati per gambe e glutei, stessa cosa per l'addome, il risultato sarà solamente un basso consumo calorico e un elevato stress fisico. In questi casi la domanda clou che dobbiamo farci è a cosa mi serve l'allenamento se il mio obiettivo è ridurre il grasso corporeo? L'allenamento ti sarà utilissimo per aumentare il consumo calorico settimanale, inoltre ti aiuterà sia a consumare calorie durante l'allenamento sia a migliorare il tono muscolare dandoti un piccolo e ulteriore aiuto nel consumo calorico a riposo. Per massimizzare il consumo calorico settimanale dobbiamo utilizzare più muscoli possibili e mantenere una buona frequenza cardiaca durante l'allenamento. Se fate un paragone semplicissimo tra un allenamento HIIT da 15 minuti e un allenamento per l'addome, quindi solo addominali sempre da 15 minuti, non potete non notare che le calorie per quanto stimate sono molto ma molto diverse. Un altro elemento molto importante è il vostro livello di abilità. Più sarà elevato più riuscirete ad eseguire workout intensi aumentando ulteriormente il consumo energetico. Date quindi sempre priorità ad allenamenti total body e allenamenti cardiovascolari se il vostro obiettivo è massimizzare il consumo calorico settimanale. Il consumo calorico è una faccia della medaglia, l'altra faccia è l'alimentazione. Ricordatevi che consumare calorie è molto più difficile che introdurre, e lo sappiamo bene tutti. Ad esempio, se volessimo scendere nella pratica, per consumare con l'allenamento un semplice, semplicissimo panino col prosciutto da 400 kcal sarà necessaria circa un'oretta di allenamento a media intensità, quindi neanche poco. Questo ci fa capire una cosa tanto tanto importante. È più facile curare l'alimentazione e allenarsi senza grandi eccessi piuttosto che allenarsi fino allo sfinimento per consumare più calorie possibili. Non è facile gestire autonomamente l'alimentazione, lo sto benissimo, e per questo consigliamo sempre di consultare un nutrizionista, soprattutto quando si inizia un'attività sportiva, con l'obiettivo di ridurre proprio il grasso corporeo. Il nutrizionista vi fornirà un piano alimentare sostenibile che non vi fa venire i morsi della fame e l'allenamento vi darà quell'aiutino in più per migliorare il bilancio calorico settimanale. La spesa iniziale sarà largamente ricompensata da cosa? Dai risultati. E molto spesso, dopo qualche mese, avrete acquisito una maggior consapevolezza alimentare che vi permetterà di gestirvi autonomamente, magari consultando il nutrizionista solo occasionalmente. Ci tengo tanto a parlare di questo argomento perché i nostri allievi che sono seguiti da un nutrizionista hanno risultati sorprendenti e grazie a questi risultati sono molto più costanti e motivati. Ora è finita la quarantena e molti studi hanno riaperto. Se il vostro obiettivo è ridurre il grasso corporeo, fateci un piccolo pensierino. Vi assicuro che sarà una scelta che vi renderà molto, ma molto soddisfatti. Bene ragazzi, spero di avervi dato anche quest'oggi qualche piccolo consiglio in più da aggiungere al vostro percorso fitness. E ora passiamo ai workout della prossima settimana. La settimana appena passata abbiamo dato spazio ai workout di livello avanzato. Questa settimana ci concentriamo di più sui workout di livello base. Allora, lunedì uscirà un cardio PH di livello base plus, martedì un flex and ton total body di livello avanzato, molto ma molto impegnativo, mercoledì un workout cardio, giovedì una sessione di stretching per la parte inferiore del corpo, venerdì un cardio gag per principianti con esercizi in piedi e a terra, e sabato, un video di Eleonora dove parliamo di alcuni miti alimentari. Per gli avanzati e gli intermedi, non preoccupatevi ragazzi, stiamo preparando dei video belli tosti che pubblicheremo nelle prossime settimane. Come sempre vi porto i saluti di tutto il team FixFit e ci vediamo domani con Tiago per un bellissimo cardio PH. Vamos!